Siamo all'imminente avvio di cinema sotto le selle d'annunzio, si comincia il 31 luglio, questa rassegna di cinema fortemente voluta dal CDA. È una rassegna che ormai svolgiamo da tre anni, è fortemente voluta dal CDA dell'ente Manifestazioni Pescaresi perché questo è un posto sempre stato considerato di nicchia, invece con questa rassegna noi riusciamo ad aprire le porte del Parco dei Teatri e della Cittadinanza, saranno 23 film, quest'anno sarà molto importante sia la presenza culturale di alcune pellicole, sarà arricchita dal commento dell'attore Budini che spesso e volentieri si occuperà di introdurre diversi film. Un'altra notizia molto importante è che quest'anno, il primo settembre, abbiamo programmato un film che si chiama Upside Down, dove il protagonista è un ragazzo down, così da far capire che Pescara lo spettacolo e l'inclusione vanno sempre di pari passo. Ricordiamo che questi spettacoli sono sia gratuiti e sia a pagamento. Sì, ci sono tantissimi spettacoli gratuiti, tantissime anteprime nazionali, alcuni saranno gratuiti e il biglietto sarà consegnato al botteghino del teatro il giorno stesso e poi ci saranno diverse pellicole a pagamento perché sono anteprime nazionali. La parte culturale del cinema è ormai una componente fondamentale della nostra società. Siamo contenti di avere un esperto come Budini che ci darà sicuramente un taglio diverso rispetto allo spettacolo e rispetto a soprattutto quei film che possono in qualche modo avere un significato maggiore culturalmente parlando. Poi ricordiamo che purtroppo in caso di pioggia gli eventi saranno annullati. In caso di pioggia gli eventi saranno annullati, ci auguriamo che il tempo possa assisterci visto che stiamo vivendo un'estate bellissima.